Daniele Farsetti, presidente di Orgoglio Amaranto, ha presentato la festa Amaranto, la festa che si svolgerà al Bagnoro dall'1 al 3 luglio. Sì, noi abbiamo inteso fare questa prima iniziativa, questa prima volta in cui tutti i tifosi di Arezzo, ma non solo perché ovviamente la manifestazione e la festa è aperta a tutti i cittadini, a chiunque voglia partecipare, di creare un momento di anche orgoglio, e rivendicare questo orgoglio verso l'appartenenza e il tifo verso la maglia Amaranto. Sarà una festa in cui non solo si mangerà, si mangerà molto bene grazie alle cucine del Bagnoro, ci sarà attività musicale organizzata dall'Associazione Culturale Stranger Zin, anche lì abbiamo un cartellone molto ricco, ma soprattutto faremo anche dibattiti per cercare di sviluppare quello che è il tema portante della nostra associazione, che è l'azione del lato popolare, quindi favore la partecipazione dei tifosi, organizzarli e quindi fare in modo che una voce unica sia più forte nelle stanze in cui si decidono o la gestione del proprio club o anche, più allargando questo ragionamento, nelle stanze degli organi come la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega, organi dove si possono i tifosi far sentire la loro presenza. Noi cerchiamo di unire un po' l'aspetto culturale, quindi i dibattiti sull'azione popolare, l'On. Belotti presenterà la propria proposta di legge, di iniziativa parlamentare in questo caso, per istituire l'azione popolare come obbligatorio all'interno delle società calcistiche e professionalistiche, quindi questo secondo me è uno scatto culturale molto grande. Faremo anche attività sportive, perché poi ci sarà una camminata non competitiva, molto bella intorno alle nostre magnifiche colline, ci sarà un torneo di calcio a sei fra i gruppi fondamentalmente della curva, quindi anche quello sarà un momento molto divertente, molto interessante, e poi insomma faremo anche tanto divertimento, tanto sano divertimento. Il Comune di Arezzo con l'assessore Scapecchi ci ha favorito, ci ha aiutato in questo senso a organizzarci al meglio, quindi un grazie va a tutti gli sponsor, va all'amministrazione comunale, va anche a tutti quei tifosi che in maniera molto generosa si sono messi a disposizione per aiutarci, e questo ci ha dato nuova energia e ci ha fatto molto piacere. Assessore Scapecchi, è un momento per ritrovare, come diceva Farsetti, questa voglia di appartenenza. Veniamo da una retrocessione e da un campionato deludente. Sì, Orgoglio Amaranto ha questo ruolo, non solo questo, ma anche questo ruolo, quello di avvicinare sempre più i tifosi e di essere un po' il fulcro del rapporto tra tifoseria e società, anzi, proprio il coinvolgimento della tifoseria nelle questioni societarie. Questa è una festa, chiaramente, dove si parlerà non solo di calcio, non solo di Arezzo, ma un po' di tutto, come ha detto già il presidente di Orgoglio Amaranto. Per quanto riguarda il momento della squadra, beh, diciamo che io penso che il peggio sia passato. C'è, come si diceva in conferenza stampa, c'è fiducia verso la nuova stagione, perché le premesse sono sicuramente diverse rispetto a quelle degli altri anni, e quindi l'augurio ovviamente è quello che si possa presto rivedere il professionismo o tramite un ripescaggio, di quale ancora non sappiamo se sarà possibile, o tramite una vittoria sul campo nel prossimo campionato, che non è facile perché ricordo che la Serie D, purtroppo, ne passa solo una, però quello è il compito per il quale la squadra è stata costruita all'80%, come ha detto ieri il direttore Giovanni. Giovanni Donati, detto Genga, è il referente del proloco del Bagnoro, e quando si parla del Bagnoro si parla della festa della ciliegia, inevitabile. Sì, ora mi lanci un assist per dire che inizia stasera la festa della ciliegia, però siamo qui con molto piacere a manifestare quello che è stata la richiesta da parte di Orgoglio Amaranto di poter svolgere questa prima festa a Amaranto nell'area gestita dalla Proloco Bagnoro e a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo, con molto orgoglio, siamo felici di ospitarli nei giorni 1, 2 e 3 luglio, nei locali e nell'area che noi gestiamo, che sembrerebbe una location ideale per questo tipo di manifestazioni. Sicuramente ringrazio Orgoglio Amaranto per averci coinvolto come Strangerzini per l'organizzazione delle tre serate. Ci sarà musica, ci saranno artisti dalla prima sera come Brina e Dengino Nicastro, la seconda serata ci sarà Ceccia e Tripodo e The Wendy Band, finendo con la terza con Bossa Danì e Daniele Perruzzi di Osaka Fru. Non solo, oltre a questo ci sarà anche un contest di disegno con dei disegnatori, dei fumettisti a Terezzo che sono tanti e sono molto bravi, e quindi magari sarà anche l'occasione per vedere un Batman con la maglia Amaranto.